Ha detto che i rodi tossici li fanno in Roma, ma che stanno veramente stanno facendo! Scendi! Scendi! Stai parlando da solo! Intervento! 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 Come vedete, ragazzi, questa cazza da fastidio! Intervento! 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 Qualcuno del servizio di sicurezza può venire un po'? Ragazzi, ragazzi, ci stanno! Allora, siete da... Andiamo organizzato con il corteo, scusami! Organizza tu! Organizza tu e parli tu! Ma venite un poco! Organizza tu e parli tu, scusami! Eh, Marco, ragazzi, per favore! Allora... Ragazzi!